Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Tessa! Hai due tette che fanno provincia, ma puoi mettere il telefono orizzontale? Ok, ok, ti si vede meglio, ti si vede un attimino meglio. Frattino, la stai guarda un po' troppo! Allora, posso decidere almeno io? No, no, ho deciso io. Ho deciso io, te l'avevo detto prima cosa vuoi fargli. Cosa vuoi fare? A zero. A zero? Lo sappiamo solo noi. Dobbiamo lasarli tutti. Che cazzo va, bro? Il teatro più bello di Twitch. Che cazzo sta in fondo? No, no, che cazzo fai. Hai fatto una cosa adesso? Continuate ad agitoponare. Adesso? Adesso? Guarda, farò sto manzo. No, no, guarda, faccio così. Spacchi. Ha detto che è schifo, bravo! Come hai detto che è schifo? Hai detto che è schifo. Che schifo ho detto, bro. No, no, guarda, faccio così. Ragazzi, ho spaccato, ve l'ho detto, ve l'ho detto. Ragazzi, farò dopo farò. La matita si nel culo, 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 nel culo. chiara bordo da merda una merda completa non è una cosa ti sono cresciute le tette? non sapevo no sono tutto push up è tutto push up purtroppo sono sempre le tettine è morto perlini un applauso per un altro guarda la manina dove va che sta facendo? che sta facendo il rosso? dai bro dai bro perché è bannabile guarda aspetta aspetta ok vabbè giusto a posto a posto bastava semplicissimo comunque si ma mi ha inviato un vocale ascoltiamolo bomba guarda so che Bertiano ero tra di cazzi quindi te lo pago io il biglietto dai vieni trovato Alexi state un paio di giorni sì e non pago nemmeno stavolta io ti lo pago io e Simone sì 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 oh 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 vabbè visto che non sono un ragazzo timido devo farmi questa goccia ovviamente non è finito bro quindi eh sfacco mi chiede capire io vado a dirà cazzo vogliato bro cosa? qua è inquadrato fra abbiamo esclusiva adidas fra oh vai vai adidas ma com'era lei Alexi Danis è suo fratello ah pensavo alla macchina eh Simo sei calmo ha detto l'ammazzavo di botte scusa c'era davvero Vegas mi spiace davvero che purtroppo sei finito nel trash del rosso ma eh che dire eh è ormai una cibi di giocale perché è che è successo? eh? ah ma è in live è in live papà? no non è rosto? no ah perché hai detto Vegas mi spiace boh perché volevo far arrivare la clip a Vegas ah vabbè salutiamo papà Vegas salutiamo papà Vegas adesso ovviamente aspetta che ringrazio un attimino le sub suate fatemi parlare un attimino con mia moglie dolma dopo ti faccio eh pat dopo ti faccio parlare con tua moglie tranquillo oh pezzo di merda porco guarda subito sei incazzato ah ma io ho la possibilità che posso scoparmela eh allora secondo me cioè adesso io non sono proce quindi cioè non hocio 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 ragazzi ovviamente ci dobbiamo dissociare ci dobbiamo dissociare a prendere le distanze massime questo è tutto di per le forme di cuore eh cosa le dico ovviamente stavo toccando la coscia si 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 ho fatto così raga ovviamente e anche se non è un attimo in difficoltà è troppo bella bro è veramente bella cosa faccio chat passami il telefono raga ma chi è la tipa no lo posso levare mi ha anche il telefono io inizio si ho riso ovviamente possiamo uscire comunque ci hanno copiato la gag si pazzesco ci siamo arrivati un anno prima tu l'hanno anche prendo qui un calciatore 100.000 te siamo arrivati no ma ci sta la carta la camera lo smanetizzano sai come ti smanetizza la carta provo a farlo con te guarda no bro non puoi lo faccio con lei non puoi allora faccio la smanetizzazione della carta tu sai come funziona tu lo faccio vedere ok dopo ti devi replicarlo ok questa è la mia titolazione della carta perché altrimenti dopo non si crea il testo per quello grazie grazie mille ma hai fatto un corso di barman fai una situazione alla mano se ti vuoi fare a testa e prima basta no no finito finito io dopo metto il mashup di Ginza se non me lo commenti vengo sotto casa tua tra coltello bro vieni sotto casa e mi ti pio ho fatto la mattina alla sera sono proteite e ti faccio mangiare sembra sembra Omar quello del video minchia che petto Omar madonna guarda che guarda che non scherza il mio petto guarda quello che ho fatto io 12 ore di connessione grazie mille grazie a tutti grazie a tutti